60 posti auto, 43 per i motorini, 4 posti di servizio, 2 posti per diversamente abili. Pronti nuovi parcheggi nel piazzale antistante l'ingresso dello stadio Grezzar. Chi vorrà potrà sostare nel rispetto degli orari per poi dedicarsi alle attività sportive o per assistere alle partite. L'assessore comunale Giorgi, inaugurando lo spazio, ha espresso soddisfazione per un lavoro che parte tutto dal comune e che vede potenziarsi un servizio, quello dei parcheggi, sempre fondamentale. Col monito che questi però vengano frequentati dalle persone che appunto poi utilizzano le strutture sportive e quindi non per chi vuole lasciare la macchina per fare la spesa o per chi la parcheggia non in funzione dell'utilizzo degli impianti. È riservato a chi viene a fare sport al Grezzar e a chi utilizza gli uffici sportivi dello stadio Rocco. Questo va sottolineato, non è un parcheggio aperto al pubblico generico che magari vuole andare a fare la spesa in zona. Anche perché fortunatamente nel rione di Valmaura non mancano i parcheggi liberi. È importante ricordare l'apertura dalle 7 alle 19.45 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, mentre fino alle 12.45 di sabato, chiuso la domenica e i festivi, chi dovesse lasciare la macchina all'interno dovrà attendere il giorno dopo per venire a recuperarla. Questo è un parcheggio che esula dalle regole del codice della strada, quindi insomma è un'area privata e quindi chiediamo particolare attenzione ai cittadini che vengono qui. Grazie.